Gesù non cessa di far resplendere la vittoria della grazia che dà vita. E oggi, e tutti i giorni, dice alla Madre Chiesa, «Dammi i tuoi figli, che siamo tutti noi!» Egli prende su di sé i nostri peccati, li toglie e ci restituisce vive alla Chiesa stessa. E ciò avviene in modo speciale durante questo anno della misericordia. La Chiesa oggi ci mostra due Suoi figli che sono testimoni esemplari di questo mistero di resurrezione. Entrambi possono cantare in eterno con le parole del salmista «Hai mutato il mio lamento in danza, Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre!» E tutti insieme uniamo le nostre voci dicendo «Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato!» Grazie a tutti!